Ragazzi, adesso do la parola subito al nostro dirigente regionale con delega alla formazione, tenente colonnello Lia Marino. Grazie. Mi dispiace perché abbiamo voluto che stamattina si potesse procedere così come era stato programmato. Non possiamo farlo perché il sindaco ha avuto un impegno inelutibile, il prefettura quindi non può essere presente e la stessa cosa vale per il vice sindaco. Abbiamo preferito così optare per rimandare questa cerimonia perché è giusto, è corretto nei confronti delle istituzioni delle quali noi stessi facciamo parte e anche perché non intendiamo protrarre questa attesa già che noi pensiamo che il rispetto degli impegni e il rispetto degli orari faccia parte di un diritto dovere da parte di chi in questo momento svolge anche dei conflitti istituzionali. Vi chiediamo scusa purtroppo per questa spiacevole cosa che è accaduta stamattina, vediamo appuntamento normalmente al mercoledì e niente, ci scusiamo anche se noi siamo presenti a nome di chi in questo momento non c'è. Grazie, scusateci. Grazie. 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 Grazie.